Grazie di esserti iscritto al canale e grazie agli abbonati che sostengono il nostro lavoro. Abbonarsi è un modo per vedere tanti video speciali in più e per aiutare la libreria. E da oggi con il nuovo pulsante grazie potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi. Cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta grazie. Bene, se c'è silenzio vi faccio qualche riflessione. Non tutti voi verrete al corso, credo, solo una piccola parte di voi, ma mi spiacerebbe non darvi questa potente informazione. Quando vi ho parlato della scuola di Nancy in Francia e vi ho parlato di Coet, di Libo, Bernheim, in Italia esiste una scuola di psicoterapia di Bernheim, molto bella, a Verona, se esiste ancora, ma credo proprio di sì, tutti ruotavano intorno al fenomeno dell'ipnosi. Ma io ho molta stima di tutte queste scuole perché la psicoanalisi francese in qualche modo ha dato una svolta alla visione dell'ipnosi, ma l'ha data attraverso un signore stranissimo che in realtà era un farmacista, che era un biologo anche e che aveva scoperto una cosa molto importante. Questa cosa importante era che le parole che accompagnavano la vendita dei suoi farmaci cambiavano la storia del farmaco, voi lo conoscete, no? Questo si chiama effetto placebo, ma lui non si accontentò dell'effetto placebo. Lui fece, fu tra i primissimi, delle pasticche di bicarbonato, delle pasticche di magnesio stearato e zucchero, eccetera, delle pasticche assolutamente prive di farmaco che ottenevano risultati straordinari. Sulla base di questo incominciò a lavorare veramente sull'ipnosuggestione, sull'auto-ipnosuggestione. Perché la cosa più importante che a lui interessava è capire che l'auto-ipnosuggestione è molto più potente della etero-ipnosuggestione, cioè se mi ipnotizza un altro non è così potente come me. Ecco perché è meglio produrre accuratamente delle uova dalla bocca, perché tutte le volte che io mi parlo devo stare attento perché sto generando il mondo dentro e fuori di me. E quindi è potente la mia, deve essere potente la mia attenzione, perché in qualche modo realizzerò ciò che sto dicendo. Ok? La vecchietta che dice questa atrosi non passa mai. È ovvio, lo dice tutti i giorni, quindi non passa mai. Allora dov'è questa parte? È profondamente seppellita nell'inconscio. L'inconscio che cosa c'ha dentro? L'inconscio ha dentro tutto quello che non arriva alla coscienza. Ora noi siamo diventati molto più coscienti in questi ultimi tempi, perché anche solo frequentandoci ci siamo allertati su questa attenzione. E quindi l'inconscio, facciamo una cosa che piacerebbe tantissimo a Gurgel, tanto, tanto, ne facciamo molto meno. Facciamo molto meno inconscio, perché l'inconscio ha una volontà potente, perché è sfuggito alla coscienza. Si deposita in una parte bassa, è proprio una persona, è proprio una personalità con una volontà e agisce. Ma se io mi metto lì tutti i giorni a dire io starò bene, io starò bene, io starò bene, mi concentro, dico io starò bene, io starò bene, funziona questa cosa? No. Come mai non funziona? Perché la volontà inconscia non incontra resistenze. Capite? Quindi è molto potente, è molto più potente della mia. Quindi che cosa posso fare io? Una cosa molto intelligente. Posso disseminare l'inconscio di concetti che funzionano esattamente come i semi nella terra. E lui inventò un meccanismo stranissimo, ma vi giuro, e questo senso proprio nel rispetto del Salmo 24 di Davide, vi giuro che io l'ho utilizzato e lo utilizzo tutt'oggi, tantissimo, senza farmi vedere dei colleghi perché altrimenti mi cacciano dall'ordine, già ne hanno decine di ragioni per farlo, ma lui diceva di costruire una cordina. Avete presente uno spago? Ecco uno spago. Tra l'altro esiste un testo di cui è bellissimo. Uno spago in cui voi decidete di fare sette, otto, dieci, dodici, non di più, venti a volte, in alcuni casi venti nodini, esattamente come succede per i rosari. E lui utilizzava una frase di questo tipo, più o meno si può tradurre così. Ogni giorno, da ogni punto di vista, io miglioro. Ogni giorno, da ogni punto di vista, io miglioro. E guardate che le sedi che poi ha aperto COE in Europa furono tantissime, ma appena lui è morto, tutto questo è stato fatto sparire. Ci sono alchimisti in Emilia Romagna di cui abbiamo completamente perso memoria perché era giusto così. Cioè la verità viene occultata, tanto più è semplice, tanto più è applicabile. Lui ebbe un'intuizione stupenda, questo genietto, questo uomo molto discreto, molto educato, così lo raccontano, perché lui diceva se io mi impegno troppo non avrò mai abbastanza volontà per arrivare all'inconscio. Devo fare in modo di arrivare all'inconscio utilizzando i canali che utilizzano l'inconscio. Per esempio, vi faccio un esempio. Oggi qualcuno di noi ha preso la macchina, è andato a comprarsi il pane, è tornato, ma non si ricorda la strada che ha fatto. Perché, per esempio, se sei a Milano e conosci Milano, io la conosco a mena dito, so tutte le scorciatore, poi quando arrivo e uno mi dice, ma che strada hai fatto? È difficile che io possa dire la sequenza precisa. Nel mio caso sì, ma è un altro discorso. Però di la norma e non ricordarselo. Ecco, quello l'inconscio lo sa. Se in questo momento io vi mettesse in ipnosi, ci ricorderemmo che voi a otto anni avevate un paio di calzettine rosse durante il vostro compleanno. Ok? Mentre se ci mettiamo adesso, che calze avevi il giorno del tuo compleanno quando avevi otto anni? Non ci arriveremo mai. Ok? Ma da qualche parte la registrazione c'è. Allora lui dice, noi dobbiamo seminare le parole mentre non siamo totalmente concentrati. esattamente il contrario. Le ripetiamo come se fosse meccanicamente il rosario della vecchietta. Di giorno in giorno, da ogni punto di vista, io miglioro. Di giorno in giorno, ogni punto di vista. Anzi, a bassa voce, come una preghiera sussurrata. Allora che cosa facciamo? Seminiamo questo nell'inconscio. Perché se siamo attenti, rimane nel conscio. Lo seminiamo nell'inconscio e mettiamo un virus nell'inconscio. Che poi, un virus è una brutta parola, un seme, un seme nella terra. Perché anche l'inconscio è una terra. E quindi salminiamo questa cosa. Quante volte? Beh, vi dirò, quando io sono andato per una brutta otite in ospedale, come vi ho già raccontato più volte, il collega mi ha detto, beh, ma non ti preoccupare dell'orecchio destro, tanto hai sempre il sinistro. l'ho detto, ok, grazie. Sono uscito e ho cominciato a utilizzare la tecnica di Coe, come faccio sempre. Il mio orecchio è ancora lì adesso. Funziona benissimo. Poi non so se ai 95 anni non faccio la fine di Beethoven, ma Beethoven era intossicato di piombo. Questa è una cosa che nessuno sa. Quindi era l'esito di un saturnismo. Lasciamo perdere. Ma nel nostro caso io penso che noi possiamo seminare in una terra fertile. E allora utilizziamo proprio il mezzo dell'inconscio. Quindi non dobbiamo essere lì totalmente concentrati nel farlo, ma lo dobbiamo fare con un grado di distrazione. Io ho scritto una volta un articolo per Rizza, che però non mi hanno pubblicato, che si chiamava Guarire per distrazione. Ma poteva essere frainteso, per questo non è stato pubblicato, perché la distrazione non è bella, ma in questo caso qui è uno strumento efficace, direi un escamotage, per fare arrivare in profondità qualcosa che altrimenti non arriverebbe o arriverebbe con molta più lentezza. Insomma, un bel giorno il signor Coe porta una sua paziente emofilica, quindi che se si tagliava per caso tagliando un limone in cucina sarebbe morta, dissanguata, a togliere un dente. E il dentista non glielo voleva togliere, stiamo parlando degli anni venti, del secolo scorso, o forse anche prima, e il dentista giustamente non se la voleva prendere questa responsabilità. E lui utilizzò la sua ipnosi collaborativa, la sua ipnosi indiretta e la donna tolse il dente senza una goccia di sangue e anche senza anestesia. e questo cambiò la storia del dolore nell'umanità. Questo non ve lo racconta nessuno, ma se voi studiate su alcuni testi che sono stati fatti sparire dall'università di psicologia ed erano testi universitari, quindi molto attendibili, voi trovate queste testimonianze. Così come trovate quel famoso paziente di Puy-Segur che era per metà con una doppia personalità, una era diabetica e l'altra no. Non so se mi spiego. Vedete quanto mistero, altro che in neuroscienze. Come dicevano in Ghostbusters, lì dentro si muove una dozzina di persone di cui non conosciamo niente. Però noi possiamo fare una bella cosa, sapere che l'inconscio se non lo vogliamo subire lo dobbiamo aggirare e quindi noi semineremo nell'inconscio qualcosa che cresce. Quindi reciteremo stupidamente questo rosario dicendo questa frase e finiremo per fare in modo che all'interno di quel sistema in cui ci sono solo lamentele incomincia a scendere un seme guaritore che è di tipo verbale perché tutte le volte che noi parliamo l'orecchio registra quello che stiamo dicendo e per il nostro orecchio e per l'area 41 del nostro cervello noi siamo l'interlocutore più importante del mondo. È il più importante. Noi siamo i più importanti per lui. Per cui quando uno comincia a dire non riuscirò mai perché sono sempre stata un incapace tutte le volte e finirà per realizzare inevitabilmente quel progetto perché sta seminando quello nell'inconscio molto bene senza accorgersene perché lo dice meccanicamente capite la forza di questa di questa cosa diventa inconscia. Se io la incontrassi questa persona nel pomeriggio le dicessi ti ricordi che ti sei lamentata stamattina in panetteria direbbe ma no perché lo fa sempre quindi non si ricorda di averlo fatto. Capite? Quindi diventa inconscio e quindi diventa potente e diventa sintomo. E quel signore che prima mangiava per certe ragioni mangia anche di questo perché lui adora quel signore oscuro che noi ci si lamenti perché l'energia nostra gli serve. Questa è una cosa che dico sempre ma nella quale credo profondamente. Ci sono delle forze che si nutrono delle nostre lamentele dei nostri disagi e tutto quanto. quindi noi dobbiamo usare lo stesso meccanismo quindi provate provate a farlo senza vergognarvi non è necessario che qualcuno lo veda questo affare anzi un'altra cosa che io dirò al corso è che il 33% 33,3% cioè un terzo sto scherzando ma diciamo un terzo delle nostre esperienze non devono venire in contatto con la conoscenza di nessun altro che non sia me stesso ok io spesso parlo di me dal punto di vista dei miei percorsi patologici no e vi racconto che anch'io come tutti gli esseri umani ho attraversato delle forche caudine di trasformazione di dolore patologie che poi passano che si modifichiano che per me sono anche oggetto di studio di interesse eccetera ma delle mie guarigioni straordinarie dirò quasi tutto ma mai tutto l'ultima perla la chiudo e la nascondo quando avrò ottenuto il risultato perché il segreto ha una potenza infinita per noi quindi vi dirò che il primo esercizio che noi dobbiamo cominciare a fare ed è molto faticoso molto faticoso perché per esempio oggi il nostro linguaggio è corrotto in senso a volte anche buono da alcune frasi consuete che ci pongono in condizioni di come posso dire impasse ci bloccano dire assolutamente sì svilisce il valore del sì detto da solo dire il direttore mega galattico è un assolutismo al di là del quale non posso andare il nostro linguaggio è ricco di esagerazioni non riusciamo più a modularlo esattamente come uno strumento capite finiremo come Mahmood e quell'altro che quando cantano ma non possono utilizzare il come si chiama quello strumento che accorda la voce no sono fuori tonalità capite noi dobbiamo noi dobbiamo rimparare a cantare e dobbiamo rimparare a utilizzare la parola in modo cosciente perché stiamo creando il mondo dentro di noi non c'è parola più potente della nostra non c'è esorcismo più potente del nostro non c'è maledizione più potente della nostra noi siamo potentissimi su di noi e poi quando lo formuliamo soltanto con un obiettivo mirato non gli diamo quella potenza che invece ha tutto quello che noi recitiamo meccanicamente che inevitabilmente finisce nell'inconscio capite? non so se mi spiego però è un concetto che graficamente vi posso spiegare molto meglio ecco purtroppo non ho questo strumento al momento quindi quando una persona viene da me di solito non sempre però io tendo a demolire questo aspetto autodemolitivo dell'individuo tendo a modificarlo tendo a far mettere un piccolo gerdarm qui davanti che governi la parola ok? la recita del rosario delle vecchiette allora quello che sembra essere distratto è un po' come disseminare Dio dentro di sé senza resistenze e metterlo in profondità metterlo nell'inconscio fare agire nell'inconscio quindi non è affatto stupido fare così se decido che cosa mettere giù capite? questa è una delle tante attività attraverso le quali noi possiamo agire direttamente anche sui sintomi fisici perché l'inconscio non ha predilezione agisce sul fisico sull'emozionale e sul mentale per cui tutte le volte che io vado dal medico e continuo a raccontare la stessa storia ecco dove la psicanalisi per certi aspetti e questo Coel aveva capito molto bene dove crolla la psicanalisi quando continua a reiterare la storia quando la persona arriva e dice perché mio padre perché mia madre mio marito è identico a mio padre eccetera 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 e io continuo a creare un monumento di quella storia e quindi esco dal mondo di Caselli che sa che l'identificazione no? una volta che io so che la vita è dolore il dolore è ignoranza le quattro leggi fondamentali del buddismo ok? e continuo a stare nel dolore perché se vado in una seduta psicanalitica ma allora ha parlato questa volta con sua madre e mi riporta il problema capite? quindi noi dobbiamo stare molto attenti quanto nella quotidianità continuiamo a percorrere quella strada che non vorremmo assolutamente percorrere perché noi viviamo di meccanicità e lasciamo perdere le forze oscure i nostri sintomi si alimentano di quello si alimentano di quello puoi trovare i video speciali di Raffaele Fiore ogni settimana nella playlist per abbonati grazie ancora del tuo sostegno di Raffaele Fiore di Raffaele Fiore di Raffaele Fiore di Raffaele Fiore di Raffaele Fiore